Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video che parlerà dei casini di Biella Siccome qualcuno mi ha detto di parlare di più di Biella io inizio dai casini poi ci saranno altri video scusate che bello a questo punto posso vendere questo video siccome la gente dice che io mi occupo di fetish anche quando non è vero posso vendere questo pezzo di video ai feticisti dello starnuto che ho fatto senza volere quindi perdonatemi dunque quello che volevo dire è questo spero soltanto che la telecamera non ritardi l'immagine e la parola perché ho già visto qualche disturbo ma vabbè il cellulare sta andando pazienza in questo momento vorrei parlare dei casini di Biella cioè quello che è successo a Biella quando io ero ancora piccola dunque quando io facevo le superiori c'è stata una sorta di scandalo c'erano un gruppo di preti che non so per quale loro stress personale picchiavano gli studenti ma non poco eh proprio schiaffoni e di tutto e di più diciamo che non sono andati così in modo grave avanti picchiare la gente come magari si può vedere in qualche firmato americano negli uffici dove si picchiano la gente impazzisce picchia i colleghi semplicemente per il fatto che una volta è successo un mega casino c'è stata mi sembra in un liceo un'occupazione si occupava la scuola insomma si faceva qualche giorno in cui la scuola veniva occupata mi sembra ed era una scuola statale e quindi gli studenti occupavano la scuola come è successo un po' in tutta Italia un prete si è inferocito si vede che non 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 era riuscito ad andare con le squinzie o aveva delle frustrazioni insomma e ha tirato uno schiaffo ad una ragazza non fosse che in questo liceo era il liceo dove andavano tutte le donne più e gli uomini più autolocati di Biella e quindi è scoppiato un casino perché questa voleva denunciarlo quindi dopo un po' anche questi preti sono stati allontanati dalla scuola perché credo proprio che non stavano ad ascoltare me che ero una poverina ma in quel liceo lì che era un'altra scuola ancora io andavo in in un altro istituto non voglio dire il nome però che intanto chi mi conosce lo sa sono stati cacciati perché almeno le persone altolocate hanno protestato quindi c'è stato uno scaricamento di barili nel senso che la scuola non voleva responsabilità quindi l'ha cacciato e però cioè i tizi la cosa peggiore che alcuni tizi credo che insegnano ancora oggi quindi mi chiedo come faranno anche perché gli studenti tedesco sono più studenti che picchiano i professori rispetto a venire picchiati dai professori boh avranno cambiato metodo perché se no non mi spiego come siano ancora vivi comunque c'erano queste persone che si comportavano molto male e non rispettavano i diritti degli studenti che anche che anche quando uno studente sbaglia gli metti la nota sul registro lo mandi fuori dalla classe gli puoi dare anche la sospensione puoi bocciarlo ma anche ai tempi nonostante siamo un paese che si adatta alle regole di vita sociale di buon senso per ultimo secondo me anche in quel tempo era assolutamente illegale picchiare gli studenti soprattutto se minorenni però era una cosa che succedeva perché tanto loro la mettevano sul ridere no ma ti do ti faccio questa cosa ma scherzando sì ma Cristo mi hai fatto male altro che scherzando che assomiglia un po' a tutte le tecniche che utilizzano oggigiorno per stuprare i bambini o comunque fare degli abusi sessuali io sono particolarmente dura su questo argomento nel senso che secondo me anche forzare un bacio su un bambino o manipolare un bambino per me è già un abuso sessuale già più cioè è già insopportabile c'è gente che dice ah ma non è stato un abuso così grave ma cosa ma cosa divento viola dal nervoso e non sono mamma cioè fossi mamma sarei una leonessa malata di rabbia cioè mi verrebbero i denti a sciabola lunghi così inizierei ad attaccare qualunque cosa cioè anche se dieci volte più grosso di me vaffanculo mi tolgo questa soddisfazione e ti attacco e vaffanculo tu non sai mai magari va di culo ce la faccio menarlo cade e a quel punto io non avrò alcuna pietà su di lui perché se no su di leganza mi fa fettine questo cazzo quindi è malato un uomo è malato vedete ho attimi di tenerezza e poi si parla di Vaticano e inizio a venirmi nervoso i tremori della morte proprio è più forte di me che ci posso fare ho i miei difetti quindi a Biella succedevano queste cose qui il problema è che mi hanno cercato di tappare la bocca dicendo se tu vai in dire in giro che questi preti picchiano e ti denunciamo e quindi ho aperto un canale youtube così almeno non mi possono più fermare quindi questo era un casino che mi è stato raccontato e io lo tramando tra l'altro secondo me la gente di Biella quella che ho conosciuto io ha veramente dei problemi ma è una città dove veramente secondo me il tasso di suicidi è molto alto e si dice che piove sempre ma non è la causa dei suicidi è il fatto che sono un po' alcuni sono un po' pazzi vi faccio un altro esempio c'è un tipo molto gentile con cui sono uscita per un anno però ero giovanissima non lo so avevo avuto 17 anni ero già scema perché mi prendevo le storie lunghe quando la gente si faceva le avventure di una notte vabbè ero rincoglionita sono stata con quello per un anno e non lo so neanche perché perché era veramente brutto infatti quando lui lo stronzo mi ha mollato per telefono un suo amico ha detto mi ha fatto sapere ma questo è scemo mollarti per telefono e quando è che se ne trovo un'altra non lo so non me ne frega un cazzo comunque probabilmente è stato single 13 anni non lo so perché questo pazzo io ero già a Prada da un po' di tempo avevo 32 anni così mi ricontatta su facebook che dobbiamo diventare amici perché così ha deciso che lui può sparire per 13 anni tornare nella vita di una persona amico come prima cioè io gli ho detto gli ho scritto guarda che hai sbagliato ma dammi l'amicizia no? puoi anche cancellarvi gli ho dato questa possibilità sperando che lui non avesse proprio fatto questa cazzata intenzionalmente no no ti voglio aggiungere tre amici tra l'altro è vero che una persona in più di 10 anni può cambiare idea senza essere incoerente però lui aveva sempre detto l'amicizia tra ex mai poi quando mi aveva mollato voleva rimanere amico e ovviamente correntemente con quello che diceva la volta in cui aveva cambiato idea è sparito è sparito per 13 anni poi però lui voleva veramente rimanere amico era ritornato alla vecchia idea e quindi mi voleva imporre questa sua amicizia potete immaginare dove l'ho mandato gli ho scritto che io gente di gente così ne ho abbastanza perché a un certo punto se sei un uomo prendi la tua decisione amicizia sì amicizia no quello che vuoi qualunque idea tu abbia e la segui se sei un uomo cioè a me veramente da veramente fastidio l'incoerenza più totale è vero che completamente coerenti non c'è nessuno tutti possiamo sbagliare io per prima però ti dico una cosa per un anno poi dopo ti mollo per telefono dopo che sono andato in vacanza a farmi un milione di cazzi miei non facendomi sentire per settimane poi ti dico per telefono poi non è vero che ti ho messo le corde no cioè certo uno non lo capisce è andato soltanto a farsi una festa nel deserto dove c'erano mille invitati chissà cosa non sarà successo questa festa cioè il fatto che io non faccia scenate di gelosia non vuol dire che non connetta il cervello e poi tesoro volevo dirti una cosa per consolarmi del fatto che tu sei uno stronzo ti devo dire che negli ultimi 13 anni qualche festicciola me la sono fatta anch'io e so come funziona per cui non mi prendere per il culo comunque io sono molto chiara io all'amicizia non ci credo a prescindere ci sono alcune persone che definisco come amico quando veramente non so che altra parola usare in realtà sono persone che mi sono molto molto care e molto 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 a cuore il problema è che sono poche selezionatissime e comunque tendo a fidarmi sempre di meno perché con tutte le cose divertenti che mi sono capitate in 26 anni a Biella cioè c'è da farsi un corso contro la paranoia comunque questo è un primo assaggio della città volevo darvi e poi parlerò di roba più seria però dovete darmi un attimo perché io le cose serie devo ricercarnele devo presentarle bene e poi non sono mai contenta di come le presento perché non ho mai abbastanza tempo per prepararmi tutto e poi perché sono una caga cazzo di mia per natura tenete conto una cosa per quanto riguarda me parlo dei miei difetti Kirk Douglas il padre di Michael Douglas nonché assoluta leggenda dei suoi tempi è ancora vivo e ha detto ho incontrato mia moglie e la prima volta che ci ho parlato tipo non eravamo ancora assieme così le ho chiesto di uscire e lei ha svicolato diciamo non gli ha dato il due di picche però insomma forse anche per paura perché lui era veramente una leggenda ti prende un colpo se ti chiede di uscire no? e lui ha pensato questa è la donna più complicata che io abbia mai conosciuto io sono andata a vedere quando è nata la moglie di Michael Douglas e ho avuto la certezza di tutto questo è nata il 23 aprile chissà come chi è sì lo ammetto sono un tipetto difficile ciao ciao ciao